Buonasera e buonasera all'area bianchi, ciao ragazze, buonasera, benvenute, andiamo, approfondiamo tutto? Grazie per l'ulà. Sì, volentieri, allora, se dovessimo fare squadra per squadra, però più bonus da Nothing and Forest, ma lui non vuole andarci. Non vuole andarci perché spera di andare al Manchester United. Stiamo provando a fare passi avanti in questo momento. Zapata credo che stia uscendo da oggi pomeriggio, Soppi è staccato e come Olm va all'Atalanta. Il problema è buongiorno per i che fino alla fine ci provi. Sensi non è in discussione, Aslani è quel punto di domanda, messa del frosinone di Angelozzi. Longari, Longari, vai. Il dottore Reggiana conferma che Duarte è stato ceduto a Logic in Croazia e aggiunge che tra poco sarà ufficiale. Suolo, ho chiesto se avessero chiesto Stefano Sienzi all'Inter, ma ancora non ho ricevuto il risposto. Ancora no. Poi di Stamir al Bet News, ci prendiamo una piccola pausa. Secondo te è più romantico il nostro fonico, Fabio Cavanna da Paveglia? Sì. Più di te credi? Sì. E grazie. E Lara Bianchi? Buonanotte. Buonanotte ragazze.